Elvie! E tu sei? Già, consentimi di rinfrescarti la memoria Ascolta, ieri sera avevo un raffreddore davvero insopportabile e ho scolato un'intera bottiglia di sciroppo, insomma non ero, non ero me stessa Ma io credevo che fra noi ci fosse sintonia Tra noi due non esiste niente, d'accordo? D'accordo? E' pazza!